E' terminato un altro giorno, santa serata a tutti, il Signore ci renda sempre pieni di gioia e speranza. Lo abbiamo pregato questa mattina nel Salmo 39, ho sperato, ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato. Allora intanto, prima vi faccio una domanda e poi vi dico cosa succederà tra qualche giorno il 19 gennaio. La domanda è, ma tu in che cosa speri? Speri? Speri di vincere una schedina? Speri che ti sparisca il dolore ad una gamba? O speri la guarigione di una malattia? Speri un lavoro? Speri che i tuoi figli siano bene? Che cosa speri? Che cos'è la speranza per te? Anzi, chi è la speranza per te? La nostra speranza ha un nome, Gesù. Gesù è la nostra speranza. E allora, mettiamo tutto con fiducia nelle mani di Gesù, nel cuore di Gesù. Lo so che vi state chiedendo, ma che cosa succederà il 19 gennaio? Ho fatto un bel pensiero, perché questa nostra famiglia è grandissima. Voi non avete neanche idea di quanti siamo. E in molte famiglie ci sono anche tanti bambini. Allora, il 19 gennaio, venerdì, al termine della coroncina della Divina Misericordia che faremo in diretta alle 14.50, prima della benedizione eucaristica, faremo l'atto di affidamento, di consegna e di consacrazione di tutti i bambini della nostra grande famiglia a Gesù Misericordioso. E allora, in qualche modo, in questo video, nella mail, scrivetemi i nomi dei vostri bambini, io li metterò in un grande foglio e li metterò sotto lo stensorio per affidarli a Gesù. Però adesso dobbiamo pregare tutti, prima di andare a nanna, e tutti ci affidiamo all'amore grande e immenso del Signore. Ma diciamoglielo ogni tanto, Signore, ma quanto ti amo! Certo, mai quanto mi ami tu, però ti amo, sai, ti voglio bene. A volte so tremendo, io glielo dico sempre, no, quando guardo il crucifisso. Gesù, a volte so tremendo, ti faccio disperare, però tu lo sai che ti amo, abbi pazienza, aiutami a cambiare, aiutami a migliorare. E così, anche voi, parlate con questo Signore, con questo Papà, con semplicità. Non dobbiamo essere difficili col Signore, Lui ci conosce dentro. Possiamo fingere con un'altra persona, ma con Lui no. Allora, preghiamo tutti insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, fin da stasera vi ricordo che domani ci sono due momenti di preghiera. Alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia, alle 16.20 il Santo Rosario a Maria che scioglie nodi. E il 19.00 affideremo e consacreremo tutti i bambini al termine della coroncina di questa grande famiglia. E io, sapete che c'è? Il mio bacio della buonanotte è per tutti voi e se Dio vuole ci vediamo domani.